Incessante la serie di bombardamenti che nella notte ha colpito la striscia di Gaza, il cessato il fuoco incondizionato imposto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU è saltato dopo poche ore. Hamas ha accusato Israele di aver colpito l'ospedale Shifa a Gaza ieri, mentre Israele ha negato, puntando il dito ancora verso Hamas. Questa notte sotto le bombe è finita la casa di uno dei suoi capi, Ismail Anieh, la casa dell'ex premier, era vuota. Colpita dai missili israeliani, anche l'unica centrale elettrica di Gaza è andata a fuoco. Nel mirino sono finiti anche i locali della televisione e della radio di Hamas. Nei nuovi raid dell'aviazione dello Stato ebraico sarebbero morti 26 palestinesi, tra cui almeno 9 donne e 4 bambini. 5 soldati israeliani sono stati uccisi nei combattimenti con un commando palestinese che stava tentando di infiltrarsi in un tunnel a Nahal Oz, vicino la frontiera con Gaza. Ammontano così a 53 i militari morti dall'inizio dell'operazione israeliana. Il totale delle vittime sale a 1113.